se io arrivo qua la cassa qui questo è la mitragliatrice io non c'ho un cazzo qua non c'ho un cazzo qua non c'ho un cazzo ho avuto un sacco di fortuna perchè questo qua aveva lo shotgun mitraglietta va bene dai meglio di niente ok prendiamo un pugno nell'occhio si fatto che macchina io io aspettami ah ma stanno stonando qua la invidia io ok sento un sacco di cassa ah eccolo qua dai mi sono cagato in mano di qua stanno fight allo a bestie eh io c'ho solo una mitraglietta sto pompa di merda no quando non troppo forte da tu ti ho a me tutto fuori da tutte le parti la prevede Un'altra shadow ruby! Ranger non mi piace! Ah, stilata! LOL! Oh, fai fatto le scelte! Vedete qua? Faccio le splash! Oh, là! Da dove? Ho visto! Da là! Vai, moflor! Alla cosa hai fatto? Non ancora! Eh, ma ho messo il muro davanti! Cazzo! Io mi sono fatto in loro! Mi sono entrato dentro! Poppa's bombone per te! Madonna! Mi sono entrato nel box! LOL! Questo però all'inizio mi è sembrato un botto, ma poi... Ho visto che ha buildato! Non è un bot! Ma è morto subito, non c'erano gli amici! Sì, è morto subito! Magari... L'abbiamo fatti fuori all'inizio! ... ... ... ... ... si spero anche fare materiali quali snap e non ci sono 24 spettatori vedi la rotura di cazzo porto dio a venerdì sera passi a rovinare le live da quattro coglioni porto di occhio guardi rilevate ok ok il medico sto per me so che son fu il medico e qua c'è un botto di roba tra l'altro una cassa aperta e 2 no o mai che laggata arrivò uno che è rimasto senza che arriva gente la è 2 mk ciao zappa no no zappa gioco con gli abbonati stasera stasera sono troppo estremi sniper ragazzi io vado a prendermi d'oro ho trovato la mappa ma come si è a testo mi ha già scoperto e cerato per farema che dov'è andare in zona dove sarebbe la mappa? eh dove è la mappa? la la cassa lì ero presto uhuuuuh quanta roba e non c'è nemmeno cos'è che c'è no vedete a prendere lo striker oro oh my vai vai no io non io ho fatto un ms ma cosa vuoi la mk qual'è che le mk questo qua la capa col mirino che macchina io no ma non io non ho visto no non pensare a presto torna io ho lasciato giù la mk per il ranger anche so che me ne pentirò oh my mi hanno fatto ragazzi due ce ne sono di qui eh arrivo ma è one shot proprio dov'è che sarebbe ah lì ah lì questo era proprio sto facendo un mk sto facendo un mk un mk però la tua scheda eccolo ecco ecco per il per l'anno ok foto merito che sono due visto 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 dove sono forza biggato ma l'ho sbagliato ragazzi sapevo che mi aspettava da un mingernob che vuoi fare vicky questo cosa vuole fare che mi sa ta what e vabbè che schifo sto a con essere più in frano st 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 for sale bello buonasera st che sapeva ragazzi ciao luca ora ora che entrano un colpo st st ho 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 me lo ricordo l'ha già scritto 37 volte per me me lo ricordo un altro medico no non serve neanche la launch fred st 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 O quello va a ressare, mi sa Ma che sta a fa? Vai, che ha petto adesso che va a ressare Non ho capito che cosa sta facendo O sta aspettando Sta scolando Dov'è stato un'altra parte Ah, non, 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 non sta arrivando Sta arrivando Panico, pausa Ma che ce la faccio, che ce la faccio Fatto 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 no c'è una minchia qua la dieta c'è faccio i cd cd lo trovo anch'io questo pollo un pollo il cornetto e fatto che si spara 172 metri alla faccia io ho fatto una chelta oltre a cercare con liceo palo attivo qui non c'è niente non c'è un'arma aspetta che mi compro il ceppo ma almeno quello non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa le pistole dei miei progetti e ciò io quelle non c'è un po' un po' un po' un po' un po' un po' facendo un po' un po' solo voi mamma che schifo un po' un po' un po' un po' non vai bene non va bene non va bene in finito il reclino tutto l'offerta va davanti. 4 cent posto ai fai 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 ovest domani basti basti lato la kill poter mirare in testa no ma di nuovo sto cazzo di cosa qua e niente prendiamo questo devo follarmi di legno e fa colopo vabbè blu blu insomma è già buono era palissimente un po' non ho aperto con la cassa tutto a posto ma l'ho bannati a questo qua ma ci sono modi in chat ragazzi buco io non ci sono che ho dovuto spegnere 99 a 1 line design a distanza non è che siamo ancora in 10 ci sarà un altro team in giro non ci vediamo occhio agli altri che stanno usando le ragnatele potrebbero attaccare da nord si qua siamo troppo scoperti ragazzi eh si era era già bannato dalla mia chat morto la caduta dopo muro mi ha colpa cecchino qualcosina ciò ma porca troia ma cazzo si coprono continuamente non l'ho fatto qua qui c'è gente laser questo tu non vai da nessuna parte 190 fatto di brutto che è ciotto poi ci sono ragnatele lmk mitico mi serve una tenda questa roba sua guardalo guardalo guarda che aveva questo qua la mitragetà d'oro la sorpresa subito questo aveva lanciagranate questo non c'è colpi di cecchino aspettate adesso te lo hai colpi di cecchino a cinquanta tre ne va bene dove sei sto arrivando allora te li lascio qua guarda ma attenzione e poi la nuova mancano quattro persona 4 o sono in un cespuglio o sono cambiato da qualche parte io ho un presentimento che siano sotto il ponte io ho un presentimento che siano sotto il ponte sono sotto il ponte no sotto il ponte no eh ma tanto adesso qua devono venire eh esatto io dico di prenderci dal testo visto target dove stanno blue team leader anonimo dove sono dove sono l'ultimo leader erano solo manca un team io ho una non so una vaniglia che siano qua no visti buffo dove sto sparando cespuglie no non penso sia lì no sbagliato no dai ragazzi dopo facciamo il server basta che l'ha finita eh non a cui il piano fanno eh 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 secondo me la casa a questo punto no a questo punto devo uscire dalla casa eh io ho detto non ho sentito nulla qua qua da qualche parte sono perché ho sentito rumori corona però io la corona ma che sarà facendo la fishing e lì i tremoni e ma dove no non credo di essere no guardando cioè ragazzi qua più possibile posso sopra guardare qua no allora no c'è nessuno eh oh ragazzi qua ormai non c'è più niente possibile no eh questi stanno stanno fishando te lo dico io ecco dove sono sky base morti dove sono hanno piazzato la giampa all'ultimo secondo mi è venuta una mezza idea bianco bianco colori bianco no no l'accato fatto mica il volo nice uno l'ho fatto 100 102 102 lo fu so io 1 1 1 4 e cazzo certi spazi sbatto la testa 4 lo scavolo e tonet e grande grande muzzo lo sapevi che stavano facendo la sky base eh mi era venuta una mezza idea non sono a terra dove sono? in alto? ma era infatti era la sky base consono super per questo io molto la